Identificare e informare il paziente sulla procedura Garantire la privacy del paziente Far assumere una posizione su Pino Scoprire il paziente ed aiutarlo a svestirsi Eseguire il lavaggio delle mani Indossare i guanti non sterili Applicare gli elettrodi ed in seguito connettere le derivazioni dell'elettrocardiografo Derivate precordiali V1 va nel quarto spazio intercostale sul margine esternale destro V2 va nel quarto spazio intercostale sul margine esternale sinistro V4 va nel quinto spazio intercostale sulla linea emiclaveare V3 va messo tra V2 e V4 V6 va nel quinto spazio intercostale sulla linea scellare media V5 va nel quinto spazio intercostale tra V4 e V6 Derivate periferiche La gialla va sul braccio sinistro La rossa va sul braccio destro La nera va sulla gamba destra La verde va sulla gamba sinistra Accendere l'elettrocardiografo Inserire i dati del paziente Accertarsi che tutte le derivazioni siano adeguatamente collegate e che non ci siano artefatti Avviare la stampa del tracciato Rimuovere gli elettrodi Pulire le zone cutanei interessate con delle garze Rivestire e ricoprire il paziente Rimuovere i guanti Eseguire il lavaggio delle mani Documentare la procedura sulla cartella clinico-infermieristica Grazie a tutti